Coraggio, ripetilo. L'ho uccisa io. Daniel Hegarty. John Lenker, grazie di avermi ricevuta. Sto indagando su una telefonata. Polizia, mi sta cercando. Come posso aiutarvi? Noi non abbiamo un nome. È un caso su cui lei ha lavorato. Lui aveva una ragazza molto tempo fa, era pugnalata. Lei è consapevole che ha confessato? È innocente. Chiaro. Su quel caso abbiamo indagato in modo eco e imparziale. Che sta nascondendo? Lascia stare. Dan è uno dei buoni. Ci sono cose che nessuno ti insegna. E a volte, se si deve fare più di quanto richiesto, non c'è da vergognarsi. È il nostro uomo. No, una confessione storta. Ci dobbiamo coprire le spalle. È evidente che ce l'ha con noi. Credo che voglia litigare. Io posso farlo. Sono le regole. Danni collaterali. Sai qual è la differenza tra l'ordine e il caos più sfrenato? Ma davvero mi fermerà lei? Già. No. Grazie a tutti.